Entra nel mondo Clandi. Iscriviti subito alla newsletter. Solo per questo mese riceverai uno sconto del 20% sul primo ordine. Per te, per la tua casa. Clandi. Radio Amore. Compagna di vita. Goal Position. Un programma per chi ama il calcio in ogni sua declinazione. Ideato da Alessandro Pennestri e Luca Cirillo. Appuntamento settimanale sul calcio femminile, futsal e Lega Nazionale Dilettanti. Notizie, analisi delle partite, risultati, classifiche, interviste ai protagonisti e aspetti tecnico-tattici. Goal Position. Per raccontare quel calcio dove la passione conta più degli interessi. Un programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci. Goal Position. La voce del pallone che ha meno voce. 15 dicembre 2020. 15.10 è quasi un gioco del destino. 15.00 è l'orario. 15.00 è il giorno. Il destino, come dicevo, ha voluto una data. Una data per iniziare questa nuova avventura che, come avete ascoltato dal titolo, si chiama Goal Position perché è un po' una sintesi tra il goal, che è il momento della gioia del calcio, quando il pallone valica la linea, e soprattutto la position, cioè ci piace essere in prima linea, dove il calcio, soprattutto quello che in questa fase storica ha meno voce, ma sicuramente è del pari importante rispetto al calcio professionistico maschile, quindi ci piace essere al fianco di coloro che in questa fase storica, come dicevo, ha meno voce. E lo facciamo con i protagonisti, con coloro che vivono quotidianamente le loro avventure sportive, professionali di vita, vogliamo ascoltare da parte loro le emozioni, i sacrifici che fanno per andare avanti e lo faremo con due grandi professionisti del settore. Innanzitutto presento Donato Martucci, ormai è una croce per me perché è sempre accanto a me in tutti i programmi, come i tirapietre qui ai microfoni di Radio Amore Campania. Buonasera Donato, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Luca, buonasera a tutti. Diamo subito un saluto a Peppe Mojito Libischi in regia che ci accompagna in tutti i nostri programmi, ma soprattutto diamo il benvenuto all'ideatore che con me durante il periodo del lockdown ha avuto questa brillantissima idea, io lo definisco il minoraiola del calcio femminile, lui sicuramente si schernisce, ma lui è il grande, lo devo dire per forza perché è una persona umile, ma io lo posso dire, Alessandro Pennestri. Buongiorno ragazzi. Come sei sobrio anche con questo saluto. Non provocare come il tuo solito. No, assolutamente no. Saluto anche tutti coloro che ci stanno guardando dalla webcam, quindi saluto Isabella Lamberti, saluto tutti coloro che stanno dando un grosso e corposo omaggio fattivo, operativo a questo progetto. Questa è la puntata 0 o puntata 1, Donato? 0-1, 1-0. Non si sa, Alessandro, puntata 0 o puntata 1? 0,5? Va bene anche puntata 0. Vol position anche per una ripartenza, diciamo, anche per una ripartenza di questo calcio che deve ripartire assolutamente, no Alessandro? Io credo proprio di sì. Dobbiamo ripartire, e su questo non c'è dubbio perché dobbiamo avere sicuramente tanto ottimismo, è il nome del programma e anche questo, ma da cosa si riparte Alessandro? Tu che sei un professionista del settore, soprattutto femminile. Io credo che sicuramente dobbiamo ripartire dalla voglia di tutti di vorrei vedere questo campo di calcio dove poter giocare, dove poter correre e dove poter vedere i propri campioni, i propri giovani ragazzi iniziare a fare attività nuovamente. Questo secondo me è fondamentale. Prima di andare dal nostro primo ospite dobbiamo, per forza di cose, perché è un grande piacere e soprattutto dobbiamo rendere merito a chi è al nostro fianco, ringraziamo il presidente Raffaele Pipola Pomilia che ci accompagnerà per tutta la stagione e poi non possiamo far altro che ringraziare Cult of Calcio di Diego Ottaviano e Cartellino Rosa. A proposito di Cartellino Rosa abbiamo subito in diretta Mattia Del Giudice. Ciao Mattia, buongiorno. Ciao Mattia. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Che bella voce squillante. Posso chiederti da dove stai parlando? Eh, io sono da tutt'altra parte, sono a Milano io, a nord. Sei un po' una contrapposizione con noi terroni, no? Se vogliamo dirla tutta. Il commentone ci vuole. Bravissimo, bravo, bravo. Allora Mattia, ovviamente sul portale Cartellino Rosa, conosciutissimo, seguitissimo, ci sono tutti gli aggiornamenti sul calcio femminile, serie A, serie B e tutti quelli che sono poi gli argomenti nevralgici di questo sport straordinario. Ti chiedo innanzitutto un focus, quindi una sorta di riassunto di quelli che sono i risultati di giornata, la classifica, anzi le classifiche e poi ti chiederei un punto della situazione rispetto alla volata Scudetto e anche a tutte quelle che sono le squadre che in questo momento magari stanno faticando in coda alla classifica. Assolutamente, partiamo subito con la decima giornata della serie A femminile che è iniziata con la vittoria di rompente della Juventus per 4-1 sulla Roma. È continuata con la vittoria di misura 1-0 della Florenzia sull'Inter e il San Marino che riesce a vincere la sfida salvezza con il Pink Bari 4-2. Le mie giornate di domenica invece è successo del Milan sul Sassuolo 2-0, il Napoli perde in casa 2-1 con l'Ellas Verona che porta all'esonero poi di Mister Marino, questo posto è entrato Pistolesi e infine Empoli Fiorentina e il derby toscano che si conclude 1-1. La classifica vede quindi la Juventus prima, punteggio pieno 30 punti, in seguita dal Milan 27. Poi abbiamo il Sassuolo a 22, la sorpresa Empoli a 17, seguono Fiorentina e Inter a 14, Roma-Florenzia a 13. Infine le ultime quattro squadre che si lottano la salvezza abbiamo l'Ellas Verona a 10 punti, il San Marino a 8 e chiudono Bari e Napoli rispettivamente a 3-1 punto nella zona rossa. Per quanto riguarda invece quello che ti chiedevo prima, un punto di vista tuo personale, la sensazione sul momento della Serie A femminile qual è la squadra che secondo te sembra avere lo sprint per lottare con grande convinzione per lo scudetto? Sicuramente la Juventus è la grande favorita e lo dimostra giornata dopo giornata, su 10 partite 10 vittorie tra cui tutti gli scontri diretti però dietro c'è un Milan che comunque mostrano tante belle cose, poi è arrivata pure Veronica Bocchete in questo calciomercato che sta aumentando la qualità in modo impressionante del centrocampo rosso-nero quindi sicuramente la sfida è tra queste due squadre che se la lotteranno fino all'ultima giornata probabilmente si competeranno anche per le Coppe Nazionali, Coppe Italia e Supercoppe Italiana. Mattia, ieri ho visto un po' il Milan, ha vinto facilmente l'altra volta, l'ho visto, comunque anche il Sassuolo se l'è giocato ha preso un palo, comunque è una squadra che se la gioca ancora, no? Assolutamente, il Sassuolo anche se ha meno 5 punti, dalmeno un secondo, è una squadra davvero fenomenale probabilmente quella che gioca il miglior calcio in questo momento del campionato il problema di questa squadra forse è che manca un po' l'esperienza e la testa per affrontare i big match perché sia con la Juve sia col Milan sono arrivate due sconfitte nonostante appunto il bel gioco Io credo, parlando del Sassuolo, che sicuramente è una sorpresa per chi magari non conosce dall'interno questa realtà vi posso assicurare che loro credono moltissimo nel calcio femminile è una realtà da tenere sotto occhio perché sono uno di quelle che secondo me nel calcio italiano da un punto di vista di società maschili investe di più in tempo e in denaro insieme alle grandi squadre quindi io credo che sono sicuramente una realtà che con il tempo, passando tramite queste ragazze giovani un giorno sicuramente lotterà per lo scudetto Io dopo vorrei chiedere sia a Mattia ma anche ad Alessandro e a Donato quanto il calcio femminile, le società femminili riflettono l'operato, quando c'è chiaramente connubio delle società gestite al maschile naturalmente perché la Juventus, lo sappiamo, è corpo unico della famiglia Agnelli e anche le altre società via via insomma inizieranno ad avere un percorso anche femminile ma prima di andare a questi argomenti volevo chiedere a Mattia il punto invece sulla Serie B Assolutamente perché si è giocata l'undicesima giornata, ben sei le gare giocate su sette che di questo periodo sono tante, visti tanti ringhi delle scorse giornate C'è stata la vittoria del Cittadella di Misura sul Cesena, 1-0, Cittadella che torna a giocare dopo tanto tempo 2-2 tra Vicenza e Chievo, vittoria del Brescia sul Ponte Dere in trasferta per 3 reti a 2 vittoria del Comune il Big Mesh contro il Ravenna consolidandosi così in vetta la classifica Tavagnacco che travolge il Perugia 5-0 e infine il Pomigliano che batte l'Eurobica 2-1 in una gara complicata e si conferma al secondo posto e infine rinviata appunto l'ultima gara il derby di Roma tra Roma calcio femminile e Lazio La classifica appunto come già detto vede il Como primo con 20 punti e una gara in meno segue il Pomigliano a 17 con due gare in meno, poi il Brescia a 16 con una gara in meno Lazio Tavagnacco a 14 punti e tre gare in meno per entrambe da recuperare solo una per il Cesena che sempre sta a 14 punti poi il Ravenna con 13 con tre gare da recuperare il Chievo a 12 con due il Cittadella a 10 punti con ben 5 gare da recuperare Vicenza a 9 punti e 3 gare da recuperare mentre sull'1 al Collorobica che ha sempre 9 punti La tua sensazione sulla squadra che sicuramente vedremo il prossimo anno in Serie A? Secondo me il Como è una squadra che in questo momento è messa meglio anche per motivazione e continuità comunque giocare tante partite di seguito questo fa solo bene alla squadra quindi la vedo come la favorita e poi sicuramente ci sarà anche il Pomigliano come sorpresa secondo me perché è una grande società che sta facendo molto bene mi ricordo un po' il San Marino dell'anno scorso è arrivata un po' di soppiatto ma che poi ha conquistato subito il posto nella massima categoria dove sta facendo anche la sua buona stagione Allora parto da Alessandro poi vado da Donato e a chiudere Mattia e complimenti per questo primo intervento davvero strepitoso dal punto di vista della qualità e del linguaggio ma soprattutto della freschezza ti devo fare per forza di cose complimenti molto sinceri Alessandro ti chiedevo prima quanto il calcio femminile riflette quando c'è il connubio, il buon lavoro, il buon operato delle società al maschile? Mi sentirei di dirti sempre, io credo che la Juventus, il Milan, l'Inter, la Sassuolo e anche la stessa Roma portano avanti quello che è il progetto nel maschile e anche nel femminile quindi la linea di condotta è sempre la stessa Cioè voglio dire Donato non è un caso se la Juventus vince dieci partite di fila o no? No, il problema è che la Juventus è stata anche da pochissimo tempo, sono quattro anni credo e tre scudetti di fila no? Certo E' così, quindi l'operato è quello, la Roma comunque ha un settore giovanile da sempre fortissimo e quindi ha investito anche nel calcio femminile e l'operato è quello Il Napoli, stiamo aspettando se De Laurettis va in Serie A con la scuola femminile Mattia per concludere, chi è la calciatrice del momento? Eh, una bella domanda perché siamo pieni di campionessi in questa Serie A Sicuramente un nome facile sarebbe Girelli, prima nella classifica Capocannonieri però mi sento di dire che quelle del Sassuolo in questo momento stanno rappresentando un bel calcio tra Dubkova, la giovane Ali Bugeia, la giapponese Miasci quindi io mi sentirei dire più il gruppo Sassuolo nonostante la sconfitta l'ultima giornata C'è tanto di De Zerbi, chissà, in questo Sassuolo Grazie Mattia, grazie per essere stato con noi, un abbraccio forte Grazie a voi E allora, termina questo primo blocco scoppiettante di Goal Position andiamo subito in pubblicità ma restate con noi perché dopo un ospite fresco, dinamico come Mattia Del Giudice c'è un uomo di grande esperienza, il presidente Sibilia, state con noi Goal Position, la voce del pallone che ha meno voce Da Euronics Gruppo Tufano fino al 20 dicembre c'è il sottocosto di Natale Samsung Smart TV 55 pollici Crystal UHD tuo a 499 euro e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata dopo Pasqua 2021 Da Euronics Gruppo Tufano il meglio della tecnologia ai prezzi più bassi sempre, altrimenti ti rimborsiamo Euronics Gruppo Tufano Cosa aspetti? Approfitta ora per cambiare le gomme Vieni da Tufano Gomme Arzano Sì, nelle sedi di Tufano Gomme c'è la più grande promozione Goodyear dell'anno Avrai fino a 100 euro di sconto subito alla cassa sui nostri prezzi già super scontati per l'acquisto di 4 pneumatici compreso di montaggio Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas Da oggi anche centro adevisioni convenzionata con tutte le società di autonoleggio Tufano Gomme ad Arzano, Nola e Casandrino Da oltre 50 anni al servizio dell'automobilista Caffè, caffè Cassì, caffè Quando si è amare Ci sono due Mi appiccio la bocca Mi fai consulare Mi metto il genio di cantare Anì? È il nome del caffè? Ah già Caffè Siag Azz È pure Saborito Guarda le cose sotto un'altra luce e scopri una nuova forma di energia L'energia per comunicare L'energia come soluzione d'arredo L'energia pulita Quella che rispetta l'ambiente Vieni da Aprile SPA Specialisti nel settore elettrico ti aspettano con un mondo di proposte Dalla minuteria del materiale elettrico fino alla vendita di fotovoltaici Gruppi di continuità trasformatori di media tensione Tutto questo con l'ausilio di personale specializzato per l'illuminazione E un ufficio tecnico attento e pronto a soddisfare ogni esigenza Vai su www.aprile spa.it e scopri tutti i punti vendita Aprile SPA Energia e competenza Ti è bastato chiamarli per avere in un batter d'occhio un'intera gamma di servizi a tua disposizione In prota trasporti Dal 1984 è il brand partenopeo specializzato in trasporti eccezionali In tutto il mondo Con uno staff esperto e tecnologia all'avanguardia In prota trasporti ha tutti i numeri per darti solo il meglio che il settore può offrire 14.000 metri quadrati dedicati alle attività logistiche 2.700 spedizioni effettuate nell'ultimo anno Un'azienda solida fondata sui valori e le tradizioni della famiglia In prota In prota trasporti di Gino In prota a Napoli via Luigi Volpicella 51 081 559 1893 Hai un'impresa idile o sei un condominio e vuoi usufruire dell'eco bonus o sisma bonus al 110% Officina Servizi, in collaborazione con Lepre Group, strategie di imprese e il consorzio Smean Energy Possono provvedere alle tue esigenze anche con la cessione del credito d'imposta Rivolgiti alla Lepre Group al numero 081 28 22 66 O alla mail Lepre Group chiocciolagmail.com Per la moda dei più piccoli a volla c'è Baby Model Il negozio specializzato in abbigliamento per bambini e neonati Con tante proposte anche per i corredini Vieni a scoprire le nostre bellissime collezioni E ricorda, da Baby Model puoi anche acquistare gift card e fare la tua lista di nascita Con spedizioni in tutta Italia Baby Model ti aspetta a volla in via Don Luigi Sturzo 44 Per info chiama il 339 43 63 497 E visita la pagina Instagram baby underscore model underscore r punto c Ieri sera è stato tutto perfetto Anna Hai una casa impeccabile e tu sei sempre uno splendore Dimmi la verità Cosa mi nascondi? Non posso più tenerlo segreto A casa ho un amico speciale Clendy Conosce ogni mia esigenza Mi dà tutto quello che serve per rendere in poco tempo la mia casa pulita, in ordine E farmi sentire sempre bella e a posto E cosa aspetti a presentarmelo? Non servono presentazioni Puoi trovare i prodotti Clendy nei migliori supermercati e ipermercati italiani Visita il sito www.clendystore.it Ed entra nel mondo Clendy Iscriviti subito alla newsletter Solo per questo mese riceverai uno sconto del 20% sul primo ordine Per te, per la tua casa Clendy Radio Amore Goal Position La voce del pallone che ha meno voce 27 minuti dopo le 15 Andiamo subito al telefono Perché Goal Position non poteva iniziare meglio Con un grande personaggio del calcio italiano Il presidente della Lega Nazionale di Lettanti Cosimo Sibilia Buonasera presidente Buonasera, grazie per l'invito Grazie a lei per aver accettato Presidente, non posso non farle subito una domanda Sul momento che sta vivendo secondo lei il calcio dilettantistico in questa fase così delicata dell'emergenza coronavirus Momento complicato, difficilissimo che viviamo dal febbraio di quest'anno Siamo arrivati alla fine dell'anno Quindi ci stiamo portando avanti con una parentesi estiva Il dramma, la tragedia del covid Ne risentiamo molto, ne stiamo risentendo molto Ma perlomeno per quanto riguarda il campionato nazionale di Lettanti Che è il quarto campionato d'Italia Ed è organizzato dalla Lega di Lettanti Pur tra tante difficoltà Stiamo cercando di portare avanti appunto il campionato Presidente, quale sono le attività, le proposte dell'NLD per il post-covid? Noi stiamo valutando giorno per giorno Quelle che sono le situazioni che riguardano Ho fatto prima riferimento al campionato nazionale di Lettanti Ma direi a quelli che sono i campionati organizzati dai nostri comitati regionali A partire dalla terza categoria, seconda, prima categoria, eccellenza promozione, regionale Poi il calcio femminile, il calcio a cinque Anche il beach soccer che è un gioco da spiaggia E che però pure è stato bloccato Noi speriamo che fino a quando non ci sarà la riapertura Che per adesso il nuovo DPCM prevede per il 15 gennaio Dopodiché per i campionati regionali si può partire eventualmente con gli allenamenti E poi ricominciare e portare a termine la stagione È una situazione molto precaria Però dobbiamo pensare a quello che è positivo E non più sempre purtroppo al dramma che stiamo vivendo Presidente, per quanto riguarda il calcio femminile Avete già stilato i punti programmatici dell'attività Per capire quali sono come Lega Nazionale di Lettanti I punti attorno ai quali far sviluppare tutto il movimento Che è in grande crescita o no? Noi siamo gli organizzatori dei campionati a livello regionale E a livello interregionale Fino alla Serie C Poi c'è la B e la A che sono nella divisione del calcio femminile I campionati organizzati direttamente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio Diciamo le nostre sono società che fanno cominciare Rappresentano la base Appunto Fanno cominciare le giovanissime a giocare a calcio Quindi rappresentano la base della piramide Che poi vede il vertice con la Serie A Però anche qui stiamo soffrendo Perché riusciamo fino ad ora Con il campionato di Serie C A giocare a singhiosso Mentre l'attività regionale è bloccata Perché appunto c'è il blocco delle attività regionali Quindi insomma noi siamo perché Lo dicevo prima Nel più breve tempo possibile si possa ricominciare Però questo non lo possiamo Siamo in condizione di stabilirlo noi Lo determina la curva dei contagi Lo determina purtroppo Questa brutta tragedia che stiamo attraversando Che è il Covid-19 Presidente abbiamo una domanda dai social Che arriva da Elisabetta Ostuni Da Instagram Le chiede se sarà abolito il vincolo sportivo Nei dilettanti Allora questa è una proposta Che è venuta dal ministro dello sport Sono stati approvati dei decreti Questi decreti devono andare avanti Ora davanti alle commissioni parlamentari Dopodiché ci sarà la conferenza Stato-Regione Noi ci siamo opposti Lo abbiamo detto con grande chiarezza Dobbiamo fare altrettanto Attraverso quelle che sono le nostre posizioni Sempre chiare in tal senso Noi pensiamo che non solo per quanto riguarda Il vincolo sportivo Ma anche per quanto riguarda la questione Che il lavoratore sportivo Ci vede totalmente contrari Perché? Perché le società dilettantistiche Avrebbero delle conseguenze molto negative Rispetto all'abolizione del vincolo Noi siamo perché si discuta Ma poi le decisioni vanno prese Rispetto a quelle che sono le condizioni E le possibilità soprattutto Il nostro calcio Perché il nostro è un fenomeno sociale Oltre che ad essere un fenomeno sportivo Quindi speriamo che tutti ne tengano conto di questo Presidente, mi scusano Alessandro Pennesti Volevo chiedere C'è la possibilità di trovare una via Una via di mezzo Tra l'abolizione e la totale restaurazione Di questo vincolo Una via che possa aiutare tutti I movimenti, i calciatrici, i calciatori Le società a non sparire Anzi ad essere aiutate Noi ci siamo sempre dichiarati disponibili A discutere A sederci intorno a un tavolo Ma senza concertazione Facendo tutto questo Insomma danneggiano in modo irreparabile Le società sportive dilettantistiche Io ricordo che circa un anno fa Noi insieme all'associazione calciatori Insieme al presidente della federazione Abbiamo discusso Abbiamo raggiunto un accordo Seppur diciamo un accordo precario Però insomma non abbiamo fatto mai mancare Il nostro contributo ad una discussione Scevra da condizionamenti Diciamo preventivi Chiamiamoli così Allora presidente Mi faccia salutare Un altro ospite che abbiamo al telefono È il presidente dell'ASD Independent Carlo Astarita Buonasera presidente Buonasera a voi Buonasera a tutti Ricordiamo che l'ASD Independent Gioca in eccellenza femminile E quindi volevo chiederle Presidente Qual è il momento della sua squadra In relazione soprattutto poi Alla ripresa dei campionati Innanzitutto volevo salutare Il presidente Sibira Che lo ricordo con molto affetto Forse lui si sarà anche dimenticato Ma grazie a lui È nata la nostra società Da quella spinosa questione Dell'afronapoli E come no Come no Mi ricordo perfettamente Ricambio con grande affetto Anch'io il saluto Grazie presidente No si figura presidente È d'obbligo questo Niente Io alla presidente Visto che c'è Quindi ho il piacere di parlare Volevo chiedergli Solamente più o meno Se Ormai questa è una pandemia Che sicuramente Durerà ancora per molto Quindi Se si sta lavorando Su un protocollo sanitario Ad hoc Per noi dilettanti E nel caso ci fosse Se è prevista Diciamo una ripresa A gennaio Perché altrimenti Passato gennaio Poi Dobbiamo fare Diciamo Dobbiamo Siamo Non c'è più tempo Poi per iniziare Il campionato Se passa gennaio È come se si va direttamente Al prossimo anno La prossima stagione Quindi perciò dico Se c'è la possibilità E si sta lavorando In questo senso Sentiamo il presidente Cosimo Sibilia Ribadisco il saluto Al presidente E noi lavoriamo Tutti i giorni Affinché Ci possa essere Nel più breve tempo possibile La ripresa Dei nostri campionati Presidente Lei deve tenere presente Però che noi facciamo Delle proposte Queste proposte Devono essere Vagliate Attraverso la federazione calcio Dal comitato Tecnico scientifico Dopodiché Si può parlare Di protocollo L'ultimo è stato fatto Per il campionato Nazionale di lettanti E noi stiamo Andando avanti Con il nostro Campionato nazionale Di lettanti Mi rendo conto Delle grandi fatiche Delle problematiche Che tutti voi Di questo Vi va dato Atto e merito Perché veramente È complicato Io Nella mia vita Non sono più giovanissimo Ne ho affrontate tante In campo sportivo In campo dirigenziale Però Stabilire Pensare Che potessimo arrivare A tutto questo Proprio Veramente Non lo credevo Comunque Noi faremo Tutto quello Che nelle nostre Possibilità fare Tenendo presente Anche Che io La mia Lega di lettanti La lega di lettanti Che io rappresento Ribadisco il concetto Non è solo Una lega Di lettanti Della federazione Calcio Che organizza Le partite di calcio Ma è anche Una Attività Che Svolge Svolge Anche Un'attività Di carattere Sociale E ho una Responsabilità Io Proprio dalla mattina Alla sera Lei mi conosce Presidente Sa come sono Scrupoloso Io non dormo La notte Per cercare Per cercare Di dare Un contributo Per la ripresa Però dipende Come dicevo prima Non più da noi Ma dipende Purtroppo Da questa curva Dei contagi Che speriamo Si possa Abbassare Se non addirittura Annullare Dobbiamo però Tenere presente Anche Chiudo Che noi Dobbiamo essere Sempre più Responsabili Dobbiamo osservare Quelle che sono Le indicazioni Delle autorità Sanitarie E governative Perché Insomma Altrimenti Faremo più fatica E ricominceremo Più tardi Ma per quanto riguarda I protocolli Stia tranquillo Che noi Appena c'è la possibilità Di dare un nostro Contributo Lo abbiamo fatto E lo faremo sempre Nell'interesse Della nostra società Allora prima di salutare E di ringraziare Il presidente Cosimo Sibilia Io devo per forza Di cose approfittare Per fare una domanda Perché poi viene fuori Il giornalista Poi è chiaro Può anche non rispondermi Volevo chiederle Non posso non farlo Cosa pensa Del terzo grado Di giudizio Della giustizia sportiva Su Juventus Napoli La sua sensazione La sua sensazione Lei sa benissimo Che io non parlerò mai Manco sotto tortura Perciò gliel'ho fatto La domanda C'è provato C'è provato Quindi sa bene Che quando c'è Un giudizio Mi astengo Dal commentare tutto Dal commentare qualcosa Che riguarda E allora E allora Da sportivo Una città Che poi Della mia regione Infatti Però Le chiedo Da sportivo Una sensazione In linea di massima Al momento Il valore È questo Tenga presente pure Però Che vedere il calcio E assistere alle partite Senza pubblico È uno spettacolo È condizionante È condizionante Da questo punto di vista Insomma Speriamo di uscirne presto Presidente Adesso ci fa una bella benedizione A questa trasmissione Che parlerà del calcio Del calcio Perché è un prete No nel senso Una benedizione Nel senso La benevolenza Sto scherzando Ovviamente Va bene Va bene Ok Mi fa piacere Che voi Parliate E soprattutto Di calcio Dilettandistico Infatti di questo Parliamo Il calcio dilettandistico È un fenomeno Ma direi La pratica sportiva Dilettandistica È qualcosa di importante E quindi Se ci aiutate A partire Presidente Presidente Io dico sempre una cosa Chi parla di calcio A livello professionistico E non si è formato Passando Tra le varie categorie Della Lega Nazionale Dilettanti A mio modesto giudizio Non può parlare di calcio Grazie Presidente Cosimo Grazie Un appiccio E un saluto particolare Al Presidente Astarita Un saluto Grazie Arrivederci Presidente Buona trasmissione Buona trasmissione Grazie Torniamo dal Presidente Astarita Al quale chiedo Un focus Un momento Di sintetizzare Il momento Della sua squadra E quali sono Gli obiettivi stagionali Compatibilmente Con quanto dicevamo Sul ritorno in campo Il momento E' particolare E' particolarissimo Per tutti quanti Diciamo Le nostre ragazze Non vedono l'ora Di ritornare in campo Noi non vediamo l'ora Diciamo Di metterci all'opera Anche perché Avevamo preparato E avevamo Diciamo Progettato Un'annata speciale Abbiamo fatto Diversi Acquisti Diciamo E quindi Ci prepariamo Per una stagione Sicuramente Da protagonisti Gli obiettivi Lo sa lei Non è che Si paletano Per scaramanzia Però sicuramente Diciamo Avevamo Obiettivi Ambiziosi Purtroppo Dobbiamo Aspettare Sperando che Prima o poi Ci sia questa ripresa Presidente Non demordete Non demordete C'è bisogno Sicuramente no Noi sicuramente Saremo qui con voi Per darvi una mano Durante il corso della stagione E sappiate Che il nostro programma È sicuramente Aperto A qualsiasi cosa Le vostre esigenze Vi ringrazio Vi ringrazio Per l'invito Sono stato Molto onorato Anche per Per avermi dato L'opportunità Di parlare Con il presidente Grazie presidente Astarita In bocca al lupo Per tutto In bocca al lupo Anche a voi Per la trasmissione Viva il lupo E allora Andiamo al secondo Blocco pubblicitario Restate con noi Perché ci sono Degli ospiti Davvero straordinari E non ve lo dice Nemmeno Donato Mattucci No 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 Goal Position La voce del pallone Che ha meno voce Euronics Gruppo Tufano Euronics Gruppo Tufano Informa che i punti vendita Sono regolarmente aperti Dal lunedì alla domenica Per maggiori informazioni Consulta il nostro sito www.euronics.it Slash Tufano E ricorda Da noi inizi a pagare Dopopasqua Salva approvazione Della finanziaria Da Euronics Gruppo Tufano I prezzi più bassi Sempre Altrimenti Ti rimborsiamo Euronics Gruppo Tufano Cosa aspetti? Approfitta ora Per cambiare le gomme Vieni da Tufano Gomme Arzano Sì Nelle sedi di Tufano Gomme C'è la più grande promozione Goodyear dell'anno Avrai fino a 100 euro Di sconto Subito alla cassa Sui nostri prezzi Già super scontati Per l'acquisto Di 4 pneumatici Compreso di montaggio Tufano Gomme E anche Officina meccanica Carroceria Impianti a gas Da oggi Anche centro revisioni Convenzionata Con tutte le società Di autonoleggio Tufano Gomme Ad Arzano Nola E Casandrino Da oltre 50 anni Al servizio dell'automobilista Caffè, caffè Cassì, caffè Quando si amara Ci doce sono chi Ma piccina la bocca Ma fai con sova Ma mi è togene E' andato Anì E' il nome del caffè? Ah già Caffè Siag Azz E' pure saporito Guarda le cose Sotto un'altra luce E scopri una nuova forma di energia L'energia per comunicare L'energia come soluzione d'arredo L'energia pulita Quella che rispetta l'ambiente Vieni da Aprile SPA Specialisti nel settore elettrico Ti aspettano con un mondo di proposte Dalla minuteria del materiale elettrico Fino alla vendita di fotovoltaici Gruppi di continuità Trasformatori di media tensione Tutto questo Con l'ausilio di personale Specializzato per l'illuminazione E' un ufficio tecnico attento E pronto a soddisfare ogni esigenza Vai su www.aprilespa.it E scopri tutti i punti vendita Aprile SPA Energia e competenza Per privati e aziende Studio Gianluca Da 35 anni Un punto di riferimento Nella consulenza per la circolazione Dei mezzi di trasporto Studio Gianluca Si occupa di tutti i tipi di pratiche Dalle visure al pra Al pagamento di bolli E tasse di possesso Dalle immatricolazioni alle radiazioni E poi revisioni e collaudi Perdite di possesso Trasferimenti di proprietà Pratiche per autotrasporto Duplicati carte di circolazione E tanti altri servizi Scegli la professionalità e l'efficienza Di Studio Gianluca A Pozzuoli In via Antiniana 59L Info 081 787 1816 E su StudioGianluca.com Un concetto nuovo di ristorazione E anche live music Per la tua sensory experience Per la moda dei più piccoli A Volla c'è Baby Model Il negozio specializzato In abbigliamento Per bambini e neonati Con tante proposte Anche per i corredini Vieni a scoprire Le nostre bellissime collezioni E ricorda Da Baby Model Puoi anche acquistare Gift Card E fare la tua lista di nascita Con spedizioni In tutta Italia Baby Model Ti aspetta a Volla In via Don Luigi Sturzo 44 Per info Chiama il 339 43 63 497 E visita la pagina Instagram baby underscore model underscore r punto c Ieri sera è stato tutto perfetto Anna Hai una casa impeccabile E tu sei sempre uno splendore Dimmi la verità Cosa mi nascondi? Non posso più tenerlo segreto A casa ho un amico speciale Clandy Conosce ogni mia esigenza Mi dà tutto quello che serve Per rendere in poco tempo La mia casa pulita In ordine E farmi sentire Sempre bella e a posto E cosa aspetti a presentarmelo? Non servono presentazioni Puoi trovare i prodotti Clandy Nei migliori supermercati E i permercati italiani Visita il sito www.clandystore.it Ed entra nel mondo Clandy Iscriviti subito Alla newsletter Solo per questo mese Riceverai uno sconto Del 20% Sul primo ordine Per te Per la tua casa Clandy Amore Goal position La voce del pallone Che ha meno voce 46 minuti Dopo le 15 Momento scoppiettante Di radio Con il presidente Cosimo Sibilia Un primo Un primo Sunto di questo Primo blocco Dei tirapietra Ah 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 Questo è grave Questo è grave Goal position Io capisco la presenza Io capisco la presenza di Donato Donato Martucci Che mi da Ma è lui Istica 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 Io non lo so Isticatore Allora un tuo primo commento Di questo show radiofonico No Un simpatico Devo dire la verità Se mi fosse stato più vicino Come direbbe Totò Sì bene Se mi vieni in zino Come dicono a Napoli Andiamo subito al telefono Dove c'è un grande professionista Un ex calciatore Adesso un avvocato Un esperto di diritto sportivo Un grande napoletano Guglielmo Stendardo Buonasera avvocato Buonasera a tutti Togli esperto No Chiamami Chiamami Guglielmo Che bella l'umiltà Che bella l'umiltà Vabbè se lo dicono gli altri Lo possono dire no Sono Un principiante Operario della giustizia Bella questa Quindi Chiamatemi assolutamente Guglielmo Mi fa piacere essere con voi Tra l'altro Dovremmo parlare di temi Che Sono Molto Importanti In questo periodo Perché sono dei temi Secondo me Che dal punto di vista Sociale Culturale Politico Potrebbero cambiare La storia dello sport Del calcio E allora Vado subito alla prima domanda Dando per scontato Che ci diamo del tuo A questo punto Guglielmo Assolutamente sì Ma stiamo scherzando Allora Quali sono le prospettive E per quanto riguarda Il futuro Di questa paventata riforma Ma io Innanzitutto Dobbiamo dire Che questa Entra in vigore Il primo settembre Partiamo dal fatto Che questa riforma È importante Dal punto di vista Sociale Culturale Però ognuno Ha i propri interessi E questo Fa parte Del Del mondo del calcio Che è un mondo Comunque Soprattutto quello Di seriato L'affarismo Il business Supera un po' Tutti gli altri valori Mentre se noi Parliamo di questa Riforma Noi dobbiamo Parlare di una Riforma Perché se nel 2020 Nessuna donna Matura la pensione Secondo me Questo è assolutamente Discriminatorio Nei confronti delle donne Certo Quindi Io credo che Poi se vuoi Inziamo nel merito Della riforma E dei decreti Assolutamente sì Però Questa è una riforma Che secondo me Migliora Il mondo dello sport Decreti Dal 2 al 6 Che passano Purtroppo Decreto numero 1 Per la riforma Della governance Soltanto due Norme Passano Però Credo che Quello che andava fatto È stato fatto Il ministro Vincenzo Spadafora Che tra l'altro Ho avuto Modo di conoscere Devo dire che Insieme È supportato Dalle forze politiche E da tutte le componenti Non solo sportive Credo sia stato Molto bravo E Attraverso la legge Delega Che inizialmente Aveva Se ben ricordate Giorgetti Poi dopo È arrivato Il ministro Spadafora E credo che Sia stato importante Fare questa riforma Gli effetti Non li possiamo Vedere Oggi Li vedremo In futuro Però In breve Quello che vorrei dire Qual è la centralità Della riforma Il cuore pulsante Della riforma Ma Secondo me La riforma Più importante È quella che riguarda Le tutele Per i lavoratori Sportivi E di quelli Che oggi purtroppo Non hanno tutele Adeguate E mi riferisco Quindi Allo sport femminile Perché oggi Manca Nello sport femminile Un contratto Di lavoro Subordinato Come esiste Nel calcio No? Maschile Con tutte le tutele Previdenziali Sanitarie Eccetera Eccetera Quindi Mancava Questo contratto Di lavoro Subordinato Assurdo Oggi Oggi Con La modifica Dell'articolo 2 Dell'articolo 10 Che dovrebbe Avvenire Prossimamente Si dovrebbe Ecco Estendere Il mondo Del professionismo Anche Al mondo Che riguarda Lo sport femminile E quando parlo Di sport femminile Attenzione Liguarda Anche Gli uomini Che lavorano Nello sport femminile Perché purtroppo Quelli anche oggi Sono direttanti Cioè per farvi un esempio Il mister della Fiorentina Che è Antonio Cincotta Che è un allenatore Preparatissimo E che conosco anche Lì è un direttante A tutti gli effetti Certo Quindi non parliamo Soltanto delle donne Che lavorano Nello sport femminile Ma parliamo anche Di tutti quegli uomini Che non hanno Alcun tipo di tutela Quindi credo sia questa Il cuore Della riforma Poi per non parlare Dell'abolizione Del vincolo sportivo Che E abbiamo parlato Anche prima Con il presidente Sibiglia Guilhermo Sono Alessandro Ciao Allora ti volevo chiedere Effettivamente Quando sarà operativa Questa riforma E quando Secondo voi I vostri programmi Effettivamente Tutte le società Tutte le realtà Tutte le atlete E gli atleti Che svolgono Attività sportiva In Italia Possono usufruirne Io penso Dal primo settembre Ovviamente Dal primo settembre Parliamo per quanto riguarda I lavoratori sportivi Per quanto riguarda Ad esempio Il vincolo sportivo Bisogna aspettare Se non sbaglio Il 2022 Quindi Se parliamo Dei lavoratori sportivi Che sono circa 500 mila Che non hanno Tutele Questi subito Comunque Avranno Il loro Contributo Cioè loro Che cosa avranno? Avranno Un esomero Contributivo Cioè voi mi direte Ma come saranno coperti Tutti questi costi Rispetto Io proprio questo Mi stai anticipando Da ottimo difensore Perché Il discorso è questo Come si conciliano Le esigenze Idealistiche Filosofiche Social preventive Se possiamo dirlo così Delle esigenze Dello sport Con le coperture Cioè spesso Dimmi Il ministro Sparafora È stato molto chiaro Dicendo Che è stato approvato Un fondo Nella legge di stabilità Di 100 milioni di euro Per consentire Questo esonero Contributivo Per quanto riguarda Invece Ulteriori Entrate Perché il ministro Ha detto Che non è escluso Un incremento Che possa avvenire Successivamente Rispetto Già a questi 100 milioni Che sono la base Per garantire Subito A questi 500 mila Lavoratori Questo esonero Contributivo Non è escluso Che possano esserci Altri fondi Ma se io devo Aggiungere qualcosa Posso dire Che Secondo me Si punterà molto Anche a Delle agevolazioni Fiscali Quando parlo Di agevolazioni Fiscali Mi riferisco Ad esempio Al credito D'imposta Io mi auguro Poi Che anche Il mondo Dei professionisti Faccia la sua parte Perché Oggi La serie A Rappresenta Un mondo Ma dalla serie C Delle risorse Senza una Contribuzione Fiscale Guglielmo Ci sarebbe Da fare Un discorso Di estensione A parte che ci sarebbe Da fare una puntata Ma bisognerebbe Estendere il meccanismo Di solidarietà Quando c'è il premio Di formazione Come concetto Anche All'assistenzialismo Secondo me Perché Sei d'accordo? Sono completamente D'accordo con te Però io ho dei dubbi Perché voi sapete meglio di me Che il calcio È un business Invece Noi oggi Stiamo parlando Tra l'altro Io vengo volentieri Ospite Nella vostra trasmissione Perché A differenza Delle altre trasmissioni In cui intervengo E che faccio Con estremo piacere Perché parliamo Di calcio giocato Parliamo di Ditto sportivo Oggi abbiamo modo Oltre che parlare Di calcio Di parlare anche Del ruolo sociale Del ruolo culturale Ma ti posso dire una cosa Guglielmo Sai cosa Ho avuto Mentre tu parlavi Un episodio Davanti agli occhi Che è quello di Ciro Immobile Non so se ricordate Quando lui Passò al Borussia D'Ortmund Scattarono Questo è un altro discorso Chiaramente Non stiamo parlando Di assistenzialismo E di previsioni Statali O altro Stiamo parlando Semplicemente Di un concetto Cioè quello Dei grandi club Che finanziano E aiutano I piccoli club Ricordo che a quell'epoca Non so se vi ricordate Il sorrento Era in grande difficoltà Quando naturalmente Ciro Immobile Passò al Borussia D'Ortmund Scattò Il premio Il meccanismo Di solidarietà Il premio Di preparazione Non so se Guglielmo ricorda E con quei soldi Il sorrento Prese una boccata D'ossigeno E tutti coloro Che erano intorno Al sorrento Hanno avuto Socialità Hanno avuto modo Di stare accanto Alla propria squadra Secondo me Questo è un concetto Fondamentale Dal quale partire Per fare in modo Che i grandi club Come dicevi tu E come si fa in Germania Possano essere sempre In maniera proporzionale In maniera sostenibile Accanto ai piccoli club Assolutamente sì Assolutamente sì Io penso che Anche con il decreto Rilancio Come voi sapete C'era una norma Che prevedeva Proprio per Le società E non solo Quelle dei direttanti Degli introiti Che derivavano Dall'1% Delle scommesse All'inizio Si pensava Poi dopo Ci sono state Delle collezioni E si è arrivati Allo 0,30 0,40 Però ecco Già prendere Una percentuale Dal mondo Delle scommesse E relegarla Al mondo Dei direttanti Io credo Che sia Anche questa Ad esempio Una misura Favorevole Che in questo momento È stata approvata Per il 2021 2022 2023 Ma io mi auguro Che sia poi Per sempre Quindi Questa riforma Secondo me È una riforma Molto importante Il lavoro sportivo Circa 500 mila Lavoratori Che erano senza tutele E avranno delle tutele Il contratto Di apprendistato Per i giovani Che è molto importante Il lavoro sportivo Delle donne Quindi tutelare Previdenziale Assicurative Guglielmo Posso dire una cosa Sì Questo covid Io lo voglio vedere Come un momento Di riflessione Prendiamo la parte positiva Del covid Secondo me Era un'opportunità Per riflettere Poi quando il covid Si toglierà Scusate l'espressione Lo posso dire Tanto non siamo in fascia protetta A me piace Si toglierà Dalle palle Ma nel senso sportivo Nel senso calcistico Sportivamente Ci sarà la possibilità Di mettere le palle in campo Giusto Guglielmo? Sì Il covid Dovrebbe Farci meditare Un po' di più E farci capire Che Questo è un momento difficile Che tutti noi Stiamo affrontando C'è un'emergenza Sanitaria Importante Sociale Economica Però io mi auguro Come dici tu Che il covid Possa servire Nel riflettere Nel far riflettere Ancora di più Tutte le persone Che poi dovranno Prendere delle decisioni Ecco Io mi auguro Che chi deve Prendere delle decisioni Per il futuro Ricavi Dalle difficoltà Che stiamo Vivendo Delle opportunità Per riformare Non solo Il mondo dello sport Ma per riformare Tante altre cose La scuola Guglielmo Prima di salutarti Devo farti una domanda Di Giambattista Salis Una domanda Che arriva dalla rete La figura del direttore sportivo Sarà prevista Ex legge Come avere La qualifica Ma 30 secondi Perché poi Non devi sviscerare Tutto l'argomento Che tratteremo Nella prossima puntata No Nel decreto 3 C'è la disciplina Che riguarda Tutti gli agenti sportivi Oggi c'è un Albo Alconi Dove Devi sostenere Un esame E poi Puoi esercitare La professione Per quanto riguarda I direttori sportivi C'è l'esame A Coverciano Chi vuole fare Il direttore sportivo Deve fare l'esame Come tutti Un flash velocissimo Chi vince Secondo te Il campionato di calcio Di Serie A Tu sei tifoso del Napoli Però Secondo te Ha sensazione Chi vincerà Lo scudetto? Ma Secondo me Il Napoli Può giocarsela Fino alla fine Se riesce A mantenere Quella continuità Nel rendimento E nelle prestazioni La Juve resta All'organico Secondo me Più forte Competitivo Però Penso che L'Inter Dopo la L'eliminazione Non avendo più La Champions Si concentrerà Soltanto su quello E se l'Inter Non dovesse vincere Lo scudetto Io penso che Il lavoro di Conte Si sarà esaurito Assolutamente Grazie 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 Un abbraccio Un abbraccio forte Ciao E allora Si chiude anche Questo terzo blocco Di Goal Position Stavo per dire Una volta Bravo Bravo Ma non è colpa mia Se ti giri di là Secondo me ti viene la voglia Di dire un altro programma Pubblicità Goal Position La voce del pallone Che ha meno voce Oh strechetta 600.000 lire Ma che cosa sono 600.000 lire Ma chi le ha viste mai Dico Chi le ha viste mai In contante Perché noi adobriamo Gli scec Lui lo sa Ogni scec È così Sono le ore 16 E due minuti L'ora esatta È offerta da Tufano Gomme Sede storica di Arzano Dal 1961 Chissà come sarà Questo Natale Di sicuro Certe cose Non cambieranno Come il regalo Dell'ultimo minuto O l'arrivo Dell'ospite più atteso E anche quest'anno Insieme Renderemo queste feste Magiche Scopri le nostre Soluzioni accessibili A tutti In negozio Su che appunto it Da Euronics Gruppo Tufano Fino al 20 dicembre C'è il Sotto costo Di Natale Samsung Galaxy Note 10 Lite Tuo A 399 euro E in più Puoi pagare In 20 mesi A tasso zero Con prima rata Dopo Pasqua 2021 Da Euronics Gruppo Tufano Il meglio Della tecnologia Ai prezzi più bassi Sempre Altrimenti ti rimborsiamo Euronics Gruppo Tufano Cosa aspetti? Approfitta ora per cambiare le gomme Vieni da Tufano Gomme Arzano Sì Nelle sedi di Tufano Gomme C'è la più grande promozione Goodyear dell'anno Avrai fino a 100 euro di sconto Subito alla cassa Sui nostri prezzi Già super scontati Per l'acquisto di 4 pneumatici Compreso di montaggio Tufano Gomme E anche Officina meccanica Carrozzeria Impianti a gas Da oggi Anche centro revisioni Convenzionata Con tutte le società Di autonoleggio Tufano Gomme Ad Arzano Nola e Casandrino Da oltre 50 anni Al servizio dell'automobilista Caffè, caffè Cassì, cassì Quando si amara Ci doce sono chi Ma piccola vocca Ma fai con sova Ma mi è tu Geni l'antano Anì E' il nome del caffè? Ah già Caffè Siag Azz E' pure saporito Uff Odio il calcare Ce l'ho dappertutto Bagni, lavandini In cucina E tu combattilo con Tergo Anticalcare Igenizzante Bagno e cucina Associa una potente azione Anticalcarea Ad un'efficace azione Sanificante Rendendo le superfici Pulite e brillanti E poi Elimina le macchie Dall'inox Senza graffiare Prodotti Tergo Solo il meglio Per la tua casa Una gamma completa Per un pulito brillante Esclusivista per la campagna Sipex Telefono 081 505 68 53 E vodico puriglia Una volta che pruata Non ne cagna di chiù Parola E donna Teresa vostra Vivi il tuo Natale Con il concorso Fish is King E Puoi vincere Una delle quattro Fiat Panda Messe in palio E ancora per te Tantissimi altri premi 12 televisori A led 40 pollici E videocamere I grandi centri Del surgelato Fish is King Sono a Napoli Somma Visuviana Casa Marciano E Saviano Fish is King Il primo shop online Dei surgelati In Campania Puoi fare il tuo ordine Sul nostro sito E riceverai La spesa a casa tua Oppure La puoi ritirare Nello store più vicino a te Fish is King Più acquisti Più vinci Fish is King Vi augura Buon Natale Buon Natale Per la moda Dei più piccoli A Volla C'è Baby Model Il negozio specializzato In abbigliamento Per bambini e neonati Con tante proposte Anche per i corredini Vieni a scoprire Le nostre bellissime collezioni E ricorda Da Baby Model Puoi anche acquistare gift card E fare la tua lista di nascita Con spedizioni in tutta Italia Baby Model Ti aspetta a Volla In via Don Luigi Sturzo 44 Per info Chiama il 339 43 63 497 E visita la pagina Instagram Baby underscore model underscore r punto c 081 552 23 73 City Trans Il tuo corriere espresso Dalla piccola consegna in città A quella internazionale City Trans Ti offre anche servizi di logistica Per la gestione delle tue merci 081 552 23 73 City Trans Chiama per il tuo preventivo personalizzato 081 552 23 73 City Trans Il tuo corriere espresso City Trans punto it Ieri sera è stato tutto perfetto Anna Hai una casa impeccabile E tu sei sempre uno splendore Dimmi la verità Cosa mi nascondi? Non posso più tenerlo segreto A casa ho un amico speciale Clendy Conosce ogni mia esigenza Mi dà tutto quello che serve Per rendere in poco tempo La mia casa pulita In ordine E farmi sentire sempre bella e a posto E cosa aspetti a presentarmelo? Non servono presentazioni Puoi trovare i prodotti Clendy Nei migliori supermercati E ipermercati italiani Visita il sito www.clendystore.it Ed entra nel mondo Clendy Iscriviti subito alla newsletter Solo per questo mese Riceverai uno sconto del 20% Sul primo ordine Per te Per la tua casa Clendy Radio Amore Radio Amore Giornale Radio A cura della redazione giornalistica Buon pomeriggio Da Emanuela Di Gironimo Dopo Pfizer Anche il vaccino anticovid Dell'azienda Moderna Ottiene il via libera Negli USA Dall'Agenzia Americana Per l'autorizzazione del farmaco Che sottolinea È efficace e sicuro In Europa invece Nessuna conferma ufficiale Per ora dal lema Sulla data del 23 dicembre Per l'autorizzazione Del vaccino Della Pfizer BioNTech La Germania Sta facendo pressioni Sulle autorità Dell'Unione Europea Per accelerare il processo Di approvazione In Italia Intanto il ministro Degli affari regionali Boccia annuncia Domani la riunione finale Per il piano vaccini Dobbiamo ancora vigilare Non si può abbassare la guardia Lo ha detto oggi Il premier Conte Ricordando che siamo giunti Alla fine dell'anno Attraversando una crisi pandemica Che ha sconvolto La nostra economia e società Per scongiurare Una terza ondata Il governo sta valutando Come chiede il CTS Nuove misure restrittive Nei giorni festivi e prefestivi Dalla vigilia di Natale A Santo Stefano E poi da San Silvestro A Capodanno La decisione è attesa Entro le prossime 48 ore Verifica di maggioranza Il presidente del Consiglio Conte Questa sera incontrerà Gli esponenti Della componente Di liberi e uguali È slittato invece L'incontro previsto oggi A Palazzo Chigi Con Italia Viva Motivo del rinvio Gli impegni a Bruxelles Di Teresa Bellanova Capo delegazione Del partito di Renzi Il vertice verrà spostato Al rientro della ministra Tra domani sera E venerdì Ieri intanto 5 Stelle e PD Hanno bocciato L'ipotesi rimpasto A livello globale Sono quasi 73 milioni I contagi Il maggior numero Ancora negli USA India e Brasile Intanto la Francia È uscita a mezzanotte Dal lockdown Ed è entrata In una fase di parziale Riapertura Con il coprifuoco Che scatta Dalle 20 Inoltre i ristoranti Ristoranti e bar Resteranno ancora chiusi Almeno fino al 20 gennaio Per contenere i rischi Di una terza ondata Epidemica Chiusure e lockdown In molti altri paesi europei Dall'Olanda All'Inghilterra Fino alla Germania Sanremo I cantanti in gara Quest'anno saranno 26 Due in più Rispetto all'anno scorso E ci sarà una presenza Di giovani altissima Dieci le donne in gara Lo ha annunciato Il direttore artistico Amadeus Che promette Sarà il festival Della rinascita Confermata inoltre La sede del teatro Ariston La settantunesima edizione Della Kermessa In programma Dal 2 al 6 marzo Basket torna Sul parchello Limpia a Milano Incassata la prima sconfitta In campionato Nel quattordicesimo turno Di Eurolega Alle 18.45 I Lombardi Sono ospiti Dei Turchi Del Fenerbahce Emozioni forti Per Datome Che ha giocato Cinque anni ad Istanbul È tutto Grazie dell'ascolto A più tardi Radio Amore Musica unica Gol position La voce del pallone Che ha meno voce E allora Rieccoci Rientrati in studio Dieci minuti Dopo le sedici Andiamo spediti Dritti Verso il quinto blocco Di questa trasmissione Gol position Non lo ricordiamo La posizione giusta La pole position Del calcio Che ha meno voce Andiamo subito Al telefono Dove c'è Una graditissima Ospite Gaia Brunelli Ciao Gaia Ciao Buon pomeriggio Ciao Come va? Tutto bene? Tutto bene Grazie Ci diamo del tuo? Assolutamente Grazie Allora ti chiedo Immediatamente Un punto Sul calcio femminile Come momento storico Come momento epocale E poi anche un punto Sulla serie A Beh guardo Intanto il momento storico Direi che Insomma è ben avviato Io credo che comunque Il vero inizio Il vero exploit Il calcio femminile Lo abbia avuto con i mondiali Anche se era comunque Già da un anno Che noi ad esempio Con Sky Seguivamo la serie A L'affiliazione Delle squadre Professionistiche È stata fondamentale Quindi mi riferisco Alle squadre Che hanno Una squadra maschile E una femminile Come Milan New Ventus Roma Inter Sassuolo Fiorentina Verona Insomma E tutte le altre Quindi direi che Insomma da questo punto di vista Il movimento è ben avviato Anzi Le promesse Della federazione Sono quelle del professionismo Tra Un paio di anni Quindi insomma Direi che Stiamo sul binario giusto Sulla strada giusta Per quanto riguarda Invece la serie A Credo che Insomma ogni anno Cerchiamo di Trovare un aggettivo Insomma Un modo di definire Il campionato In maniera sempre diversa Direi che quest'anno È davvero quello più competitivo Di sempre Perché per quanto la Juve Viaggi a una velocità Supersonica Perché a 30 punti Le ha vinte tutte Però c'è il Milan Che segue E soprattutto Prima di questa Sossa natalizia Il Milan ha battuto Il Sassuolo È riuscito a creare Diciamo un divario Interessante con la terza E quindi Primo e secondo posto Che sono ancora in palio E vi ricordo che Il primo e secondo posto Valgono anche per L'accesso alla Champions League Che è importante Come è importante infatti Partecipare a partite Come Juventus-Lione Abbiamo visto la partita D'andata Che è finita 3-2 Per il Lione Che vince la Champions League Da cinque edizioni consecutive Sono campionessa D'Europa in carica Questa sera La Juve Sarà appunto in Francia Per cercare Di ribaltare Credo Ahimè Senza grosse possibilità Il 3-2 Dell'andata Stesso discorso Vale invece per la Fiorentina Che ha fatto Un buon pareggio in casa Contro la Slavia Praga E domani Sarà Praga Per cercare di passare il turno Però insomma L'Italia c'è Il calcio seminile italiano Ha dato un segnale importante Anche alle big d'Europa Per cui direi che Assolutamente È un momento molto positivo Ho fatto prima In apertura di trasmissione Una domanda A Mattia del Giudice Di Cartellino Rosa Sulla calciatrice del momento Lo chiedo anche a te Ma la calciatrice del momento Sono tante Perché io credo che Quella che ti emoziona di più Nel raccontarla Le sue giocate Quello che esprime A me personalmente piace molto Tecnicamente Ci sono Guarda Non faccio un nome Perché sono tante Le giocatrici Che mi emozionano Una è Valentina Cernoia Perché credo davvero Che con quel sinistro Sappia fare qualunque cosa Quindi mi emoziona Per quello Una è Valentina Bergamaschi Perché corre Quanto le altre Non correranno mai E la terza La terza La terza È Elisa Bartoli Perché è una giocatrice Straordinaria Una grinta Che non ha nessuno E tra i portieri Tra i portieri Si mi piacciono di più Dei portieri italiani O in generale No in generale In generale Laura Giuliani Secondo me è cresciuta tantissimo Anzi è avuto modo Di intervistare La settimana scorsa Ha parlato anche appunto Di questo suo momento Di questo suo percorso A livello psicologico Che sta facendo Proprio per aumentare La sua concentrazione Nei 90 minuti E devo dire Che sta avendo Un effetto fantastico Quindi Mi piace molto Beh L'ultima partita Direi che su tutte Maja Corenciava del Milan È stata assolutamente decisiva Per la vittoria del Milan Contro il Sassuolo Per cui direi lei Che insomma È piccolina Non è Filiforme Ma è una giocatrice Che ha un'agilità Che hanno Esplosiva Esplosiva Gaia Prima di passare Al collega Del Corriere del Mezzogiorno Donato Martucci Corriere della Sera Una domanda Te la devo per forza fare Tu che sei Una narratrice Del calcio Femminile Quanto c'è Come necessità Quella di riscrivere Un po' Il racconto Del calcio Perché io Quando dico portiere Secondo me Non è adeguato Al calcio femminile Tu che dici? Beh guarda Credo sia Un annoso Discorso Questo Mi stai facendo Una domanda Che mi fanno in tanti Perché insomma Dire difensore Vale un po' per tutti Difenditrice Diventerebbe complicato Bruttissimo Io credo che dove si può Dire la capitana Sia anche giusto Dire la capitana Dove invece Comunque c'è una Una terminologia Che può essere Considerata universale E faccio sempre E faccio sempre questo esempio Di un libro Che io ho amato molto Nella mia Così Del mio percorso Scolastico Che è L'essico familiare Di Natalia Ginzburg Ecco Io credo che ci sia Un lettico familiare Dove Alcuni termini Vengono riconosciuti Come tali Indipendentemente Dal genere Galia Tu che hai commentato Da sempre Di calcio femminile Cosa È cresciuto di più In questo movimento Cioè La crescita Con cosa si sostanzia Adesso Beh intanto Intanto la crescita Io ti parlo anche Da un punto di vista Dal mio punto di vista Di giornalista Di Di telecronista Gli ascolti Che comunque Sono su Sky Sono emblematici Rispetto a quella Che è stata la crescita Esatto Esponenziale Di questo movimento Quindi credo che Principalmente quello Poi Ma anche Anche socialmente A livello di social network No Perché ormai Molto si Si determina anche da quello Eh La crescita Dei Così Dei follower Che hanno queste giocatrici Dopo il mondiale E quindi di conseguenza Delle sponsorizzazioni Perché ricordiamo Che loro sono ancora Sotto un regime Dilettantistico Per cui Hanno dei tetti Salariali Che non possono superare Quindi Il loro introito Per far sì Che il calcio Sia il loro mestiere È chiaro che Gli sponsor aiutano È chiaro che Insomma Deba venire qualcosa Anche da fuori Al momento Almeno in attesa Del 2022 Quando ci sarà Il professionismo Quindi fondamentalmente Credo che la crescita Sia da questi punti di vista Dal punto di vista tecnico Io ho giocato a calcio Tanti anni fa Quando ero Quando ero giovane Ruolo E fresca Difensore centrale E non perché fossi cattiva Perché erano cattive Le altre come me Alla gamma Alla gamma Esatto Esatto Però ecco Io ho giocato a calcio Tecnicamente Ho giocato con Carlo Innamoraggio Ho giocato con Patrizia Panico Ho giocato con Manuela Teste Per cui non credo Che la tecnica Sia cambiata Sicuramente è cambiata La metodologia Dell'allenamento Quindi il fatto Di potersi allenare Spesso Facendo anche Il doppio Facendo insomma Allenamenti Durante la giornata Io mi ricordo Che ai tempi Poi si Era una cosa molto difficile Da vedere Era una cosa molto difficile Da vedere Sì Assolutamente Ti faccio una domanda Noi che abbiamo Abbiamo vissuto Questo cambiamento Noi eravamo qui Quando eravamo Veramente dei pionieri Nel calcio femminile Erano tantissime difficoltà Voi da atlete Dovevate vincere Tante difficoltà Per riuscire a fare attività Io vedo questo cambiamento Nell'attività di base In quello che stanno facendo Anche tante realtà Professionistiche Che sono avvicinate Al calcio femminile Imponendolo Anche dalla federazione Quanto questo Nel corso Dei prossimi anni Si vedrà nel movimento Quanto questa Onda lunga Di ragazzine Che si sono avvicinate Al calcio femminile Attraverso le società Professionistiche Potrà dare una mano Al movimento Beh l'obiettivo Chiaramente è questo L'obiettivo Aldirà Insomma Di vedere La soddisfazione Che queste ragazze Si stanno costruendo E si stanno prendendo Con tanto lavoro Con tanto sacrificio È chiaro Che poi porterà I frutti A quelle Che saranno Le nuove eleve Le nuove generazioni Quindi Anche un cambio Di mentalità Anche un cambio Di mentalità Sì 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 Assolutamente Insomma adesso Vedere i settori giovanili Appunto le bambine Del Milan O della Juve O dell'Inter Che mi capita anche Di vedere andando In centri sportivi Insomma è davvero Una grande soddisfazione Un grande orgoglio Perché vuol dire Che insomma Adesso c'è Un lavoro Fatto Ad hoc Anche per le bambine Che appunto Io ripeto Non per essere Autoreferenziata Ma quando ho iniziato A giocare Ho iniziato Giocando nel cortile Con i maschi Ecco Non c'era minimamente L'ipotesi di dire Vado in un club In una scuola calcio E mi insegnano Quindi insomma Capisco davvero Da questo Quanto davvero Si possa arrivare A un obiettivo Comune Quali sono I calciatori Vado nel campo Maschile Che ti hanno fatto Sognare di più Tre nomi Franco Baresi Ronaldo Il fenomeno Il fenomeno Senza dubbio E vabbè È grosso Perché Non tanto In quanto calciatore In quanto Insomma Finale del mondiale Perché Il tardelli bis Quell'urlo Quella è stata Una gioia Una gioia Immensa Sì Ti devo un po' Bacchettare Perché nei tre Non hai detto Maradona Eh no Mi spiace Mi spiace Lui Lui Purtroppo Io voglio essere libera Di non sceglierlo Sto scherzando Ci mancherebbe E fuori classifica Diciamo Per noi sì E allora Prima di concludere E di ringraziarti Per essere stata con noi Mister O Missis O Miss La panchina Sì panchina Coach Ecco vedi Già E invece In un termine italiano Per non essere esterofili Allenatrice Allenatrice Vedi Vedi Alessandra Molto semplice Benissimo Grazie Gaia Grazie per la Gaia Grazie a voi A presto Buon lavoro Grazie Allora grazie a Gaia Brunelli Di Sky Andiamo in pubblicità Restate con noi Perché adesso viene Il dolce Non sono finita Goal Position La voce del pallone Che ha meno voce Da Euronics Gruppo Tufano Fino al 20 dicembre C'è il Sottocosto di Natale Samsung Smart TV 55 pollici Crystal UHD Tuo A 499 euro E in più Puoi pagare in 20 mesi A tasso zero Con prima rata Dopo Pasqua 2021 Da Euronics Gruppo Tufano Approfitta ora per cambiare le gomme Vieni da Tufano Gomme Arzano Sì Nelle sedi di Tufano Gomme C'è la più grande promozione Goodyear dell'anno Avrai fino a 100 euro di sconto Subito alla cassa Sui nostri prezzi Già super scontati Per l'acquisto di 4 pneumatici Compreso di montaggio Tufano Gomme E anche officina meccanica Carroceria Impianti a gas Da oggi Anche centro revisioni Convenzionata Con tutte le società di autonoleggio Tufano Gomme Ad Arzano Nola E Casandrino Da oltre 50 anni Al servizio dell'automobilista Guarda le cose sotto un'altra luce E scopri una nuova forma di energia L'energia per comunicare L'energia come soluzione d'arredo L'energia pulita Quella che rispetta l'ambiente Vieni da Aprile SPA Specialisti nel settore elettrico Ti aspettano con un mondo di proposte Dalla minuteria del materiale elettrico Fino alla vendita di potovoltaici Gruppi di continuità Trasformatori di media tensione Tutto questo Con l'ausilio di personale specializzato per l'illuminazione E un ufficio tecnico attento E pronto a soddisfare ogni esigenza Vai su www.aprilespa.it E scopri tutti i punti vendita Aprile SPA Energia e competenza 16 e 22 Quasi 23 Un po' 22 il pazzo Un po' 23 lo scemo Donato quale scegli? 22 Io scelgo il 23 Va bene così Me la sono chiamata Alessandro vuole il numero scegli Però 16 16 è un numero Non so se sei Sei particolarmente provocato No ma È fortunato Girati un po' di là Che programma stiamo? Che programma stiamo? Goal position Siamo nel photo finish Photo finish con Stefano Fracchini Saluti a Facchini Facchini Chiedo scusa Gaetano Esposito Isabella Lamberti Che poi tra l'altro chiede anche Chiedeva a Stendardo Magari Gliela faremo la prossima volta Questa domanda Cioè la riforma E le nuove normative della FIFA Se potrebbe essere un grande avanti Per il calcio femminile italiano E mondiale Nelle prossime puntate Sicuramente glielo chiederemo Fatemi però salutare Il più grande allenatore Che è in circolazione Allenatore Attenzione Allenatore Lui ha regolarmente Il patentino UFAB Stiamo parlando Di Molinio No Stiamo parlando del grande Fabiano Santacroce Ciao Fabiano Ciao Fabiano Mitico Fabiano Perché ridi? Ciao a tutti Perché ridi? Perché ridi? No rido per sto allenatore Perché lo sai bene Che mai lo farò No ma sai perché Sai perché era circolata Era circolata la voce Che tu potessi prendere Il posto di Geppino Marino Sulla panchina del Napoli Calcio femminile Invece non è così No 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 Non è così Sono Sono felice Comunque Per Come si dice Per questo grande onore Che mi hanno Per questo grande omaggio Capito? Ma l'allenatore Proprio non lo farò mai Ci indecchia troppo Presto È impossibile Però brizzolato Non saresti male Saresti Ehi Diventerei tipo Denzel Uwoshin A questo punto Andrei a fare film Senti Fabiano Ti ringrazio innanzitutto Per essere sempre così Gentile E disponibile Resta sempre così Perché farai Veramente tanta strada Ti devo chiedere subito Un punto Secondo il tuo Sentire Il tuo vedere Il calcio femminile Su questo movimento Che è in grande crescita Abbiamo ascoltato Il presidente Cosimo Sibili Abbiamo ascoltato Guglielmo Stendardo Volevo un tuo parere Sul momento Sull'attualità Del calcio femminile No Il momento È che siamo In crescita Sicuramente Come Come nazione Come paese Ma Che c'è ancora Tanto Tanto da fare Comunque Mi sono avvicinato A questo mondo Quindi sono andato Parecchio tempo A guardare Il Napoli femminile Quindi tutte le ragazze Che sono atlete Al cento per cento E c'è la stessa voglia Lo stesso impegno I stessi allenamenti E quindi secondo me Bisognerebbe fare Anche un passaggio Superiore All'essere solo Dilettanti Ma al diventare In tutto e per tutto Professionisti Quindi C'è C'è un gran passo Che bisogna fare E spero che Che venga fatto Comunque Sono rimasto Molto felice E molto sorpreso Perché uno Magari ha delle aspettative Molto minori E invece Andando a vedere Sui propri occhi Ci si accorge Che è un bel mondo Ed è Anche un buon livello Senti Ma il Napoli calcio femminile Ce la farà Secondo te A risalire la china? È dura È molto dura Ma possono farcela Sicuramente Anche perché La classifica Non Ancora È corta Ancora ce la fanno A recuperare Cosa non ha funzionato Secondo te Adesso? Ci sono Ci sono Tante Tante piccole cose Che Sicuramente Il fatto Dell'avere Una rosa Così ampia E con così Tante Diverse Nazionalità Non Non ha reso Possibile Magari Un'unione Più forte Da parte Del gruppo In più C'è stato Anche il Covid Di mezzo Sono state colpite In tante Dal Covid Hanno avuto Parecchia Sfortuna E devono Stringere i denti E cercare Di Unirsi Che Come squadra Non sono Una squadra Brutta E Hanno Delle Potenzialità E Possiamo Fare il tipo Senti Ma qual è la differenza Più evidente Quella che salta agli occhi Non voglio essere banale Non voglio fare Le solite battute Chiaramente Perché altrimenti No se no le prendi Urtiamo Urtiamo La suscettibilità Di Alessandro Penestri La differenza Più evidente Tra il calcio maschile E il calcio femminile Secondo te Una grossa Differenza Che ho notato Che mancano Tante piccole Basi Tante piccole Basi calcistiche Purtroppo Come movimento Si Si sta Allargando Ma sicuramente Ci sono sempre Poche bambine Che lo fanno E bisognerebbe Insegnargli Di più Fin da quando Sono piccolo E ora Pian piano Si sta crescendo In questo Però Ti ho detto Mancano Tante piccole Basi E bisognerebbe Bisognerebbe investire Sono poche A dare una A dare un'aiuto A dare una mano Perché È ancora Quello Un mondo Pieno di tanti Valori È ancora un mondo Molto pulito Rispetto al calcio Maschile Dove ci sono Tantissimi interessi Ed è proprio Piacevole Vivere di quella Passione Ci sono queste Ragazze Che veramente Guadagnano Comunque Poco E si spostano Comunque Fuori casa Quindi Hanno tante Difficoltà Però Lo vedi Che lo fanno Proprio Per una Passione A proposito A proposito Di questo Ti faccio una domanda Molto personale Se vuoi mandami A quel paese Non mi rispondere Tu sei padre Di due bambine È normale Che I genitori Almeno quelli bravi Credo io Da vecchio maestro Di scuola elementare Sono quelli che lasciano Sbocciare Le inclinazioni Dei propri figli E poi i bambini Scelgono quasi Le assecondano Però ci sono anche Quante volte I genitori Soprattutto i padri Quasi impongono Ai figli Di fare scuola calcio Perché così Si usa fare Eccetera Ti chiedevo Se tua figlia Una delle tue figlie Dovesse chiederti Papà mi insegni A giocare a calcio Saresti Che insegnante Avrebbe Un insegnante Privilegiato Sicuramente Ma ti chiedo La seconderesti O orienteresti La sua scelta Verso la danza No Assolutamente Sì No no Le mie piccole Già fanno danza Ecco Ovviamente Anche perché in casa Mia moglie È ballerina È mio cacciatore Però tipo C'è la più grande Che Ogni tanto Spendini Giochiamo a calcio E tu va in porta Ci facciamo i passaggi Va in porta Faccio i teckel I teckel Sei come quei video Di youtube Dove i genitori Entrano a gamba tesa Sui figli Complimenti Secondo me Tu fai anche Tiktok Secondo me Fai tu Coinvolto O perché Si propone Diciamo Ovviamente Lei gioca a calcio Io devo fare Qualcosa Del suo mondo Ho visto Desideriamo Una foto In tutun Fabiano Io Una domanda Te la devo Per forza Di cose fare Anche sul Sul momento Del calcio Maschile Serie A Perché ormai Per quanto riguarda Dei tirapietre Fuggi spesso Anche perché sappiamo Scherzi a parte Che lunedì Sei impegnato In tv Ti chiedo Un momento Di fare Un punto Una sintesi Di quello Che è il momento Del Napoli Di Gattuso Ti piace Non ti piace Ci sono delle cose Da correggere Allora Sicuramente Ha Qualcosa Da correggere Che Più che altro La fase Difensiva Mentre Si attacca Quindi Ci sono Diverse Coperture Preventive Che magari Non vengono Fatte Molte volte Infatti I pericoli Grossi Che subisce Il Napoli Sono quelli Nelle ripartenze Soprattutto Alla fascia Destra Di Lorenzo Che spinge Tanto Ed è molto Bravo a farlo Però poi Quando La palla Magari viene Riconquistata Dall'altra squadra E poi ripartono Ci possono Sempre far male Quindi Stai parlando Del gol di Anktub In pratica Eh? Stai parlando Del gol di Anktub Quello subito Contro la Samp Eh bravo Era proprio Quell'immagine Lì Eh ma Non è solo Questa Cioè ci sono Tante azioni Dove poi Magari non Finiscono Dove si Prende Gollo Però ci sono Tante azioni Prese Sempre Sempre In questa Maniera Ovviamente Essendo La faccia Dove si Spinge Di più E anche Quella Dove Dove Rischi Di prendere Ripartenti E bisogna Stare magari Un attimino Più attenti In quello Come squadra È buona Una buona Squadra E sta Trovando Un giusto Equilibrio Una squadra Che non Molla Preso Comunque C'è il carattere Dell'allenatore E gli manca Comunque Anche La punta Di riferimento Che doveva Dare Quel Di più E quindi Sta Reagendo Molto Molto Bene Secondo te Il Napoli Con quali Calciatori Con quale Assetto Ha maggiore Equilibrio Guarda Secondo me Un 4-3-3 Anche se Varia Continuamente Durante la partita E tu Vedi Nello stesso momento Un 4-2-3-1 Un 4-5-1 O un 4-4-1-1 Certo Ci sono molti momenti Ed è stato molto bravo In questo gattuso A creare una squadra Molto duttile Ed è una cosa buona Sicuramente A me piace Molto Con il 4-2-3-1 Anche se si rischia Però Mi piace Giocare Offensivo Mi piacciono un po' Quelle partite all'inglese Dove attacca uno Attacca l'altro Quindi non mi vuoi esprimere Un Diciamo Un centrocampo Tipo Di base Come equilibrio Io ti posso dire I giocatori Che mi piacciono Molto Sicuramente Bakayoko Demme Mi piace Uno che Spero che abbia più spazio Anche perché Serve un motorino Lì in mezzo Anche perché Se andiamo a leggere Le statistiche Corre 13 km A partita Quindi ci vuole uno Che equilibra L'ho vista L'altra volta Anche io Ed è una cosa Tazzesca Serve Serve tantissimo Le partite dove ha giocato Comunque sia Se sentito Da sicuramente Un valore più Mi dispiace Per Fabian Ruiz Che è Giocatore Bello Molto bello Da vedere Sicuramente Con molta classe Ma Ci fa perdere Un qualcosa Magari in fase Difensiva Certo Fabiano Cosa ne pensi Torniamo un po' Un altro argomento Però penso che a te Sia molto caro Dell'episodio di gazzismo Che è accaduto In Paris Saint Germain Baschikr qualcosa Un nome impronunciabile Però Hai capito Insomma Di quello lì Di quello lì Sì Di quello lì Merita di essere Chiamato di quello lì Esattamente Guarda Che c'è da dire Purtroppo I trucoloditi Esistono Esistono In politica Come esistono A fare Qualsiasi tipo Di lavoro E sicuramente Spero che poi La pena Che gli verrà data Sarà esemplare Anche perché Da un giudice Di gara Non si può aspettare Una Ti posso dire Che non sono d'accordo Con te Te lo dico Con un grande Non sei d'accordo Non sono d'accordo Ma per un motivo Molto semplice Perché se tu Tra tanti Allora se io Gioco Faccio tanto per dire In una squadra Dove ci sono Tanti ragazzi di colore E io sono l'unico cinese L'unico bianco Una persona Che mi deve indicare Tra tanti Che deve dire Scusami Il ragazzo di colore Sì ma ha detto Normalità Tantigando Per una persona Strimenti Qual è il fatto È che di solito Solitamente È raro E allora Allora facciamo E allora facciamo una cosa Fabiano Richiediamo Ufficialmente Un linguaggio Corretto Un protocollo Del linguaggio Secondo me Si potrebbe assolutamente Fare Per evitare Di cadere In questi In questi incidenti Diplomatici O così come li vogliamo Questo in generale In generale In generale Nei contesti pubblici No perché io Poi la battuta Che faccio è questa Metti che gli arbitri Erano napoletani Ok E il quarto uomo Doveva indicare Un cinese Che dicevo Un cinese È stato chilo Un cinese Sarebbe stato razzismo No ma Se diceva Il mangiariso Ma sì ma lo mangia Comunque il riso Perché Eh lo so Siamo mangiaspaghetti Pure noi Siamo terroccia Dispregiativa Perché già giallo Giallo come colore Non lo vedo Dispregiativo Giallo è carino Magari qualcuno Dice sì È dispregiativo Pure giallo Perciò Dico mettiamoci D'accordo Come parlare E la facciamo finita Ma basta dire La persona di colore Cioè molto Molto semplice Molto Altrimenti Mettiamoci i numeri Sulle maglie indicative Il 12 Il 15 Il 18 Potrebbe essere Una soluzione Assolutamente Io credo che Alla base Ci debba essere Sempre rispetto Ma al di là di tutto Sì 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 Ma assolutamente Sì sì ma è come Vengono dette le cose Non sono le parole È proprio come Come le dici Il senso Che gli dai Io ascoltando Le cose Non l'ho percepito Come bello Nonostante non capisca Un cazzo Di Di rumeno Però Però Non l'ho percepito Molto bello Capito No ma poi Sai che cosa Succede Che poi Dà fastidio Che poi Si va A fare Un'inchiesta Giornalistica Sulla vita privata Di questo quarto uomo Una vita difficile Che aveva tentato Il suicidio Poi gli si esagera E dà molto fastidio Perché si invade La sfera privata E poi Chiudo il discorso E ringrazio Fabiano Santacroce Per essere stato con noi È anche brutto Che si faccia Razzismo Tra i razzismi È vero Quando ad essere offesi Sono i napoletani Ci si passa sopra Quando ad essere offesi È un cinese O un ragazzo di colore Invece Si fa Una sollevazione Questo mi dà fastidio Tu pensa a me Che sono neppure napoletano Grandissimo Fabiano Sei un fenomeno Io te lo dirò sempre Sei un gran Fabiano Grazie per essere stato con noi Grazie Fabiano Grazie a voi Che meraviglia Fabiano Un abbraccio Un abbraccio a Fabiano Un saluto Ciao Grazie Fabiano Ciao Fabiano E allora Andiamo in pubblicità Poi il rush finale Io credo che Fabiano Santacroce Sia uno dei personaggi Del calcio Più divertenti In assoluto E poi Molto molto fine L'intelligente Pubblicità Goal position La voce del pallone Che ha meno voce Ci hai mai pensato? Con i ragazzi C'è sempre qualcosa Da festeggiare Un compleanno Un onomastico Una cerimonia Una ricorrenza Un bel voto a scuola Ma hai mai pensato A premiarli in modo originale? Scegli i buoni Dedicati ai minori Garantiti dallo Stato italiano Sottoscrivibili in tutti gli uffici postali Il regalo ideale Per il loro futuro I buoni I buoni di cassa depositi e prestiti Li trovi solo da poste italiane Messaggio pubblicitario con finalità promozionale I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori d'età Sono emessi da cassa depositi e prestiti Distribuiti da poste italiane Sono assistiti dalla garanzia dello Stato Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni E consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it Da Euronics Gruppo Tufano fino al 20 dicembre c'è il Sottocosto di Natale Samsung Galaxy Note 10 Lite Tuo a 399 euro E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero Con prima rata dopo Pasqua 2021 Da Euronics Gruppo Tufano il meglio della tecnologia Ai prezzi più bassi Sempre Altrimenti ti rimborsiamo Euronics Gruppo Tufano Cosa aspetti? Approfitta ora per cambiare le gomme Vieni da Tufano Gomme Arzano Sì! Nelle sedi di Tufano Gomme c'è la più grande promozione Goodyear dell'anno Avrai fino a 100 euro di sconto subito alla cassa Sui nostri prezzi già super scontati Per l'acquisto di 4 pneumatici compreso di montaggio Tufano Gomme è anche officina meccanica, carrozzeria, impianti a gas Da oggi anche centro revisioni Convenzionata con tutte le società di autonoleggio Tufano Gomme ad Arzano, Nola e Casandrino Da oltre 50 anni al servizio dell'automobilista Guarda le cose sotto un'altra luce E scopri una nuova forma di energia L'energia per comunicare L'energia come soluzione d'arredo L'energia pulita Quella che rispetta l'ambiente Vieni da Aprile SPA Specialisti nel settore elettrico ti aspettano con un mondo di proposte Dalla minuteria del materiale elettrico Fino alla vendita di fotovoltaici Gruppi di continuità Trasformatori di media tensione Tutto questo con l'ausilio di personale specializzato per l'illuminazione E un ufficio tecnico attento e pronto a soddisfare ogni esigenza Vai su www.aprile spa.it e scopri tutti i punti vendita Aprile SPA Energia e competenza A volte ti capita di non sentire bene o farti ripetere le parole Rivolgiti a Otwell Acustica Noi di Otwell Da oltre dieci anni offriamo soluzioni personalizzate di ultima generazione Adatte ad ogni esigenza Test dell'udito Consulenze gratuite Apparecchi acustici gratuiti agli eventi diritto E assistenza domiciliare gratuita a vita Dove ci trovi? A Napoli A Quarto A Melito Cava dei Terreni E in oltre 250 farmacie in tutta la Campania Chiamaci al numero verde 800 182 375 Oppure visita il sito web otwell.it Vivi il tuo Natale con il concorso Fishes King E puoi vincere una delle quattro Fiat Panda messe in palio E ancora per te Tantissimi altri premi 12 televisori a led 40 pollici e videocamere I grandi centri del surgelato Fishes King Sono a Napoli Somma Vesuviana Casa Marciano e Saviano Fishes King Il primo shop online dei surgelati in Campania Puoi fare il tuo ordine sul nostro sito E riceverai la spesa a casa tua Oppure la puoi ritirare nello store più vicino a te Fishes King Più acquisti Più vinci Fishes King Vi augura Buon Natale Buon Natale Radio Amore Compagna di vita Gol Position La voce del pallone che ha meno voce 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 Grazie a tutti. 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 E allora, in webcam vedete l'albero di Natale, vedete l'insegna di Radio Amore, vedete anche Donato Martucci, sottoscritto Alessandro, Peppe Mojito Libischi, non lo vedete. Ci avviciniamo al Natale. Cosa chiede Alessandro Pennestri a Babbo Natale? Allora, come tutti, pace per gli uomini di buona volontà. Stasera siamo tutti preti, stasera siamo in vena di benedizio. Se volete vi benedico dall'altro. Grazie a tutti. 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 Eventualmente per una questione genetica, soltanto hanno un livello di forza strutturale inferiore a quello degli uomini e quindi va considerato, soprattutto inizialmente, nelle fasi iniziali del programma, un lavoro di rinforzo muscolare e preventivo molto più attento rispetto agli uomini, non che non si debba fare con gli uomini. Dalla parte nostra abbiamo un livello di ormonale, di testosterone, che ci permette strutturalmente di avere dei livelli di forza molto più migliori, più alti. Quindi le donne sicuramente sono più carenti in questo aspetto qui. E quindi bisogna lavorare sull'aspetto muscolare tutelando l'aspetto tecnico? L'aspetto muscolare, l'aspetto neuromuscolare, quindi anche sulla velocità di esecuzione del gesto, ma una cosa che ci tengo a precisare è che chi non ha avuto esperienze dirette con il calcio femminile, quindi con le donne in sport del genere, è che i livelli di coordinazione tecnica sono pari, uguali a quelli degli uomini. Una donna è capace tecnicamente di fare le stesse cose che fa un uomo, un calciatore. Questo è un bellissimo messaggio, se ci pensiamo, no? Sicuro che non è uno spot pubblicitario per il calcio femminile? No, 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 lo devo dire perché... Sono totalmente d'accordo, ho visto fare dei gesti tecnici a giocatrici... Assolutamente. Identici. Io ho allenato, ho avuto la fortuna di allenare delle giocatrici che tecnicamente erano superiori a calciatori che attualmente giocano in Serie A. Ovviamente la differenza, come abbiamo detto, è quella fisica, atletica, che ovviamente è enorme e quindi non potrebbe mai portarli a livello. Ma ho visto fare gesti tecnici nettamente superiori a delle calciatori rispetto ad alcuni giocatori di Serie A. Quindi non c'è nulla che loro abbiano nemmeno dal punto di vista tecnico, se non che la velocità di esecuzione, ma per questioni di tipo strutturale, fisico. E ricordiamolo, Cristian, tu hai lavorato con signori giocatori. Nel Napoli anche, no? Con Cavani. Non è che stiamo parlando di una squadra piccola, di un paese, anzi hai lavorato a deltissimi livelli professionali con i maschi e quindi questo paragone è assolutamente veritiero. Quindi se te lo dici tu... Ci dobbiamo per forza di cose fidare. Cristian, non posso non chiederti un tuo parere sull'infortunio di Ozyman. È pronto questo ragazzo? Ha sensazione naturalmente perché non siamo addentro alle dinamiche di casa Napoli nello specifico, ma secondo te i tempi sono stati rispettati chiaramente per assorbire il problema alla spalla e se lo vedremo prima dell'anno nuovo? Sai, il problema che ha avuto di lussazione alla spalla è un po' più complesso rispetto ad esempio ad una visione muscolare, dove si fa una diagnosi e più o meno ci sono dei tempi che si rispettano. Nella spalla bisogna vedere le complicazioni che ha avuto, bisogna capire se ha avuto problemi alla capsule articolare, non so se il ragazzo già soffrisse di una lussazione precedente. Ho letto che dovrebbe essere più o meno pronto per la fine del mese di dicembre, quindi credo che per i primi giorni di gennaio dovremmo rivederlo. Quindi il 2020 è finito? Il 2020 è finito? Il 2020 sì, fondamentalmente bisogna poi vedere, considerate che con un problema alla spalla del genere gli allenamenti sono stati molto ridotti. Ma che tipo di terapia occorrono Cristian? Che tipo di terapia occorrono in questo caso? Ripeto, il problema è vedere se c'è stata qualche lesione, quindi solitamente si lavora, ovviamente se non è il caso di operare, ma non è stato il caso di Yosimen, si lavora spesso con una terapia o di laser o di tecara, anche, dipende dal tipo di problema, anche se poi terapia manuale, terapia poi di rinforzo muscolare soprattutto dopo aver struttosto l'inforzo. Però è molto delicato, no? Come infortunio, come tipo di infortunio. Bisogna capire se è una sublustazione o una lustazione completa, non credo che sia stata completa, e se c'è interessamento dei legamenti. Credo di no, però non è stata una sublustazione. Ricordo male o anche Mertens ebbe un problema simile anni fa, giusto? Sì, però sembra una cosa un po' più delicata, insomma, meno grave di Yosimen. Credo che sia una lustazione tipo medio, perché comunque le lustazioni più gravi sono anche a volte, si fa anche all'intervento virutico, quindi non è il caso suo. Cristiano Giannotti, ti dobbiamo purtroppo salutare, perché volge al termine questa prima puntata di Goal Position. Ci ritroveremo sicuramente nelle prossime. Ci hai ascoltato o sei arrivato in sordina nel finale? Vi dico la vita, in sordina perché... Potevi anche dire una bugia, nessuno ti obbligava. No, meglio essere sinceri della prima puntata. Bravo, bravo. Un applauso. Puntata 0,5. 0,5. Però assolvivo i miei compiti di preparatore che ero ad allenare. Bravo. Grazie al prof doc Cristiano Giannotti. Grazie, Cristiano Giannotti. Un abbraccio, alla prossima. E allora, signori, prima puntata di Goal Position completata. Abbiamo la benedizione di Sibilia. Positiva. Molto positiva. Donato Bartucci. Ottima, ottima. Io dico, bella, bella. Ci siamo divertiti. Il tuo saluto ai nostri radioascoltatori. Ci vedremo alla prossima? Quando? A gennaio, sicuramente. E allora, per quanto riguarda il segmento Goal Position, vi ringraziamo per essere stati con noi. Vi auguriamo buon Natale in quanto Goal Position. Per quanto riguarda invece i tirapietre, ultima puntata del 2020, forse, no, la faremo sicuramente, forse ultima. Ah, è l'ultima, Peppe Mojito? Gap a te, gap a te. Occhio alle sorprese. Una buona serata da Luca Cirillo, Donato Martucci e Alessandro Pennestri. Lo dico io. Alessandro Pennestri. Ciao! Goal Position. La voce del pallone che ha meno voce. Oh, Battista, dimmi un po', dimmi la verità. Appisci, come stiamo? Vale, vale. Eh, lo so. Sono le ore 17, in punto. L'ora esatta è offerta da... Tufano Gomme, sede storica di Arzano dal 1961. Ikea è un mondo di ispirazione e mille modi per raggiungerlo. Come Ikea.it, pieno di soluzioni.